Markheim, Stevenson — Sì, disse il mercante, abbiamo dei guadagni inaspettati di varie spese. Certi clienti sono ignoranti, e allora riscuoto un dividendo per la mia scienza maggiore della loro. E certuni sono disonesti. Ecco a sola candela, in modo da far cadere la luce direttamente sul suo visitatore. — E in questo caso, continuò, metto a profitto la mia virtù. Markheim era appena entrato. Veniva dalle strade soleggiate. I suoi occhi non si erano ancora abituati allo splendore e alla tenebra che verrano qua e là nel negozio. A queste parole epigrammatiche, e davanti alla fiamma della candela, sbatté le palpebre come per pena, e volse gli occhi da un'altra parte. — Il mercante sogghignò. — Venite da me il giorno di Natale, soggiunse. E quando sapete che sono solo in casa, e ho chiuso le imposte e ci tengo a rifiutare gli affari. — Ebbene, dovrete pagare anche per questo. Dovrete pagarmi per la perdita di tempo. Perché ora dovrei essere occupato a chiudere il bilancio. E per di più, dovrete pagare per un certo modo che, oggi, noto assai forte in voi. Io sono la discrezione personificata. E non faccio domande imbarazzanti. Ma quando un cliente non può guardarmi negli occhi, deve pagare anche per questo. Il mercante tornò a sogghignare. E poi, tornando alla consueta voce degli affari, sebbene ancora con una punta d'ironia. — Potete provare con evidenza, come sempre, che siete venuto in possesso dell'oggetto. Continuò. — Sempre dalla raccolta di vostro zio. Un collezionista importante, signore. E il piccolo mercante, pallido, con le spalle curve, salzò quasi in punta di piedi guardando sopra le lenti cerchiate d'oro e accennando col capo, dando ogni segno di sfiducia. Markheim rispose al suo sguardo con un'occhiata infinita di pietà e un po' di orrore. Questa volta, disse di sbagliate, non sono venuto a vendere, ma a comprare. Non ho oggetti curiosi di cui disfarmi. La raccolta di mio zio è ormai ridotta agli scaffali. E anche se fosse intatta, ho guadagnato bene alla borsa. E sarebbe più probabile che l'arricchissi, piuttosto che la spogliassi. E la mia visita d'oggi è la cosa più semplice che ci sia al mondo. Cerco un regalo di Natale. Per una signora, continuò, parlando con maggior facilità. Poiché quello era il discorso che aveva preparato. E certo vi debbo tutte le mie scuse, se vi disturbo così, per una cosa tanto poco importante. Ma me ne sono dimenticato ieri. Devo portare il mio piccolo regalo a pranzo. E come sapete molto bene, un ricco matrimonio non è cosa da trascurare. Seguì una pausa, durante la quale il mercante parve considerare con incredulità questa dichiarazione. Il tic-tac di molti orologi nel curioso disordine del negozio e il rumore delle carrozze che giungeva attenuato da una strada vicina, riempirono quell'intervallo di silenzio. E' bene, signore, disse il mercante, sia come volete. Siete un vecchio cliente, dopo tutto. E se, come dite, avete la possibilità di fare un buon matrimonio, non voglio certo essere d'ostacolo. Ecco qui una bella cosa per una signora, continuò. Questo specchio a mano, quindicesimo secolo garantito, e viene da una collezione, ma non vi posso dire il nome, nell'interesse del mio cliente, che era proprio come voi, mio caro signore, il nipote e l'unico erede di un importante collezionista. Il mercante, nel dir queste parole con la sua voce secca e mordente, si era chinato a prendere l'oggetto dal suo posto, e intanto un tremito era passato in tutta la persona di Markheim, un tremito delle mani come dei piedi, un balzo improvviso di molti tumultuosi sentimenti sul volto. Passò rapidamente come era venuto, e non lasciò altra traccia che un certo tremore della mano, che ora ricevette lo specchio. Uno specchio, disse Rauco e poi Tacque, ripetè con voce più chiara. Uno specchio per Natale. No, certo. E perché no? Esclamò il mercante. Perché non uno specchio? Markheim lo guardava con l'espressione indefinibile. Mi domandate perché no? Disse. Ma come guardate? Guardatevi! Guardate il vostro viso! Vi piace vedercelo? No, e neppure a me! Non piace a nessuno! Il piccolo uomo aveva fatto un balzo indietro quando Markheim gli aveva messo davanti lo specchio. Ma ora, vedendo che non si trattava di nulla di peggio di quello che aveva udito, subghignò. La vostra futura sposa, signore, non deve essere molto bella? Disse. Vi domando, disse Markheim, un dono di Natale. E voi mi date questo? Questo maledetto specchio che ricorda gli anni e i peccati e le follie? Questa coscienza da portare in mano? Me ne siete accorto? Ci avete pensato? Ditemi! Sarà meglio per voi, se me lo direte. Andiamo, parlatemi di voi. Ora, ma rischio a indovinare. Credo che in segreto date un uomo molto caritatevole. Il mercante guardò da vicino il suo compagno. Era molto strano. Non pareva che Markheim ridesse. C'era qualche cosa nel suo viso simile a un'anziosa scintilla di speranza, ma nessuna allegria. Che cosa intendete dire? domandò il mercante. Non siete caritatevole? Dispose l'altro, facendosi scuro. Non siete caritatevole. Non siete pio? Non siete scrupoloso? Non amate? Non siate amato? Una mano per prendere il denaro, una cassaforte per serbarlo. È tutto qui? Buon Dio! È tutto qui! Vi dirò io che cos'è, cominciò il mercante, non senza collera, e poi si rimise a sogginare. Ma vedo che il vostro è un matrimonio d'amore, e che avete bevuto alla salute della vostra bella. Ah! esclamò Markheim, con strana curiosità. Ah! siete stato innamorato. Parlatemi di questo! Io! esclamò il mercante. Io, innamorato! Non ho mai avuto tempo, e non ho tempo adesso, per queste ciocchezze. Volete lo specchio? Che fretta c'è, rispose Markheim. È molto divertente stare qui a chiacchierare. E la vita è tanto breve, e poco sicura che non vorrei distogliermi in fretta da nessun piacere. No, nemmeno da uno tanto piccolo come questo. Dovremmo piuttosto attaccarcici, attaccarci, a quel poco che possiamo avere, come un uomo all'orlo di una rupe. Ogni secondo è una rupe, se ci pensate. Una rupe alta un miglio, alta quanto basta, se cadiamo per sfracellarci in modo da toglierci ogni aspetto umano. Persò è meglio parlare allegramente. Parliamo di noi. Perché dovremmo portare questa maschera? Dobbiamo farci delle confidenze, chi lo sa. Potremmo diventare amici. Non ho che una parola da dirvi, disse il mercante, o fate la vostra compiera, o uscite dal mio negozio. Giusto, giusto, disse Markheim. Basta con le sciocchezze. E gli affari. Mostratemi qualche altra cosa. Il mercante si chinò di nuovo questa volta per rimettere lo specchio nello scaffale. I capelli biondi e sottili gli caddero sugli occhi mentre si chinava. Markheim si avvicinò un poco, con una mano in una tasca del soprabito. Si drizzò e riempì i polmoni allo stesso tempo. Molte, diverse emozioni comparvero sul suo viso. Terrore, orrore, e decisione, fascino, e una fisica ripugnanza. E poiché il suo labbro superiore si era sollevato in modo truce, apparvero i denti. Questo forse andrà bene, osservò il mercante. E ora, mentre cominciava ad alzarsi, Markheim balzò alle spalle della sua vittima. Il lungo pugnale, simile a uno spiedo, balenò e cadde. Il mercante si dibatté come una gallina, colpì lo scaffale con la tempia e poi cadde a terra in un mucchio. Il tempo aveva una ventina di piccole voci in quel negozio, alcune maestose e lente, come si conveniva alla loro età grave, altre garrule e svelte. Tutte queste, dicevano i secondi, in un intricato coro di tic-tac. Poi passare ad un ragazzo, che correva pesantemente sul marciapiede, interruppe le piccole voci e riportò a Markheim la coscienza del luogo nel quale si trovava. Si guardò intorno con terrore. La candela era sul banco, la fiamma ondeggiava solennemente in un viscontro d'aria e da quel minimo movimento tutta la stanza era riempita ad un moto silenzioso e continuava a fluttuare come un mare. Le alte ombre accennavano, le grandi macchie di tenebra si gonfiavano e scemavano come se respirassero. I volti dei ritratti e gli dèi di porcellana mutavano e ondeggiavano come immagini nell'acqua. La porta interna era socchiusa e scrutava quell'assedio d'ombre con una lunga fessura di luce simile a un dito teso. Da questi vagabondaggi pieni di paura gli occhi di Markheim ritornarono al corpo della sua vittima, dove giaceva al tempo stesso in un cumulo e contorto incredibilmente piccolo e stranamente più meschino che in vita. E in quei piccoli abiti d'avaro, in quell'atteggiamento goffo, il mercante stava come segatura. Markheim aveva temuto di vederlo ed ecco non era niente. Eppure, mentre guardava, quel mucchio di vecchie vesti e quella pozza di sangue cominciarono a trovare voci eloquenti. Là doveva rimanere. non c'era nessuno che potesse far muovere le ingegnose giunture o dirigere il miracolo del moto. Là doveva rimanere finché non fosse trovato. Trovato, sì. E allora? Allora quella carne morta avrebbe levato un grido che avrebbe risuonato per tutta l'Inghilterra e avrebbe riempito il mondo con l'eco dell'inseguimento. Sì, morto o no, quello era ancora il nemico. Mi fu un tempo nel quale i cervelli si spensero, pensò e la prima parola lo colpì. Il tempo ora che il delitto era compiuto, il tempo che era finito per la vittima era divenuto urgente e importante per l'uccisore. Questo pensiero era ancora nella sua mente quando prima uno e poi l'altro con tutte le varietà di passo e di voce uno profondo come la campana della torre di una cattedrale un altro suonando con le sue note sottili il preludio di un waltzer gli orologi cominciarono a suonare le tre del pomeriggio l'improvviso scoppio di tante voci nella stanza muta lo fece barcollare cominciò a darsi attorno andando sciù e giù con la candela assediato dalle mobili ombre e trasalendo in fondo all'anima per una riflessione casuale in molti ricchi specchi alcuni di stile inglese altri di venezia o d'amsterdam vide il suo volto ripetuto e ripetuto come se fosse un esercito di spie i suoi stessi occhi lo incontrarono e scoprirono e il suono dei suoi stessi passi così leggeri turbava la quiete circostante e ancora mentre continuava a riempirsi le tasche la sua mente lo accusava con un ripetere che lo faceva disperare di mille errori nel suo disegno avrebbe dovuto scegliere un'ora più tranquilla avrebbe dovuto prepararsi un alibi non avrebbe dovuto usare il coltello avrebbe dovuto essere più cauto e avrebbe dovuto soltanto imbavagliare e legare il mercante e non ucciderlo avrebbe dovuto essere più ardito e uccidere anche la domestica avrebbe dovuto far tutto in altro modo un pungente rammarico un incessante rebolio della mente per mutare quello che era immutabile per progettare quello che adesso era inutile per essere l'architetto dell'irrevocabile passato intanto e dietro tutta questa attività brutti errori come fughe di topi in una soffitta deserta riempivano le più remote parti del suo cervello in tumulto la mano di un poliziotto pareva gli cadesse greve sulla spalla e i suoi narvi sussultavano come quelli di un pesce preso a lamo o vedeva veloce e sfilata il tribunale la prigione la forca e la bara nera il terrore della gente che era per la strada stava davanti alla sua mente come un esercito assediante era impossibile pensava che qualche rumore della lotta non fosse giunto al loro orecchio e non avesse messa in attenzione la loro curiosità e adesso in tutte le case vicine le indovinava seduti immobili con le orecchie tese lente solitaria condannata a passare il natale induciandosi sola sulle memorie del passato e ora strappata con un sobbalzo alla dolcezza del rievocare felici gruppi familiari improvvisamente silenziosi intorno alla tavola la madre ancora col dito alzato ogni grado d'età ed umore ma tutti presso il loro focolare che scrutavano e stavano in ascolto e filavano la corda che lo avrebbe impiccato la morte gli pareva di non muoversi abbastanza ad agio il tintinio degli alti calici di boemia risuonava forte come quello delle campane e allarmato dalla forza del titettio si sentiva tentato a fermare gli orologi e poi ancora con rapido mutamento dei terrori lo stesso silenzio del luogo gli pareva sorgente di pericolo motale da colpire e far raggelare il passante e camminava più ardito e s'affaccendava rumoroso tra gli ozzetti del negozio e imitava con difficile spavalderia i moti di un uomo in faccende a suo agio in casa sua ma ora si sentiva tanto attratto da allarmi diversi che mentre una parte della sua mente era ancora alerta ed acuta un'altra tremava sull'orlo della pazzia un'allucidazione in particolare si impadronì fortemente della sua credulità il vicino in ascolto col viso pallido presso la sua finestra il passante fermo sul marsapiede per un orribile sospetto questi al più potevano sospettare ma non potevano sapere attraverso i muri di mattoni e le finestre delle imposte chiuse soltanto i suoni potevano penetrare ma qui in casa era solo sapeva di esserlo aveva spiato alla domestica uscirsene per andare a fare all'amore coi suoi poveri abiti delle feste libera tutto il giorno scritto in ogni nastro e in ogni sorriso sì era solo naturalmente eppure nella mole della casa vuota sopra di lui poteva certamente udire un moto di passi delicati era certamente conscio inesplicabilmente conscio d'una presenza sì certamente in ogni stanza in ogni angolo della casa la sua fantasia lo seguiva e ora era una cosa senza volto eppure aveva occhi per vedere e poi era un'ombra di lui e poi ancora ecco l'ombra del mercante morto fatta rivivere dall'astuzia e dall'oblio a volte con un grande sforzo dava un'occhiata alla porta aperta che ancora pareva respingere i suoi occhi la casa era alta il sornario piccolo e sudicio il giorno era accecato dalla nebbia e la luce che filtrava pian terreno era straordinariamente debole e si mostrava opaca sulla soglia del negozio eppure in quella striscia di dubbia chiarezza non pendeva ondeggiante un'ombra entrato nella strada un signore molto gioviale cominciò a bussare con un bastone sulla porta del negozio accompagnando i colpi con grida e oltraggi nei quali il mercante era continuamente chiamato per nome Markheim fatto di gelo guardò il morto ma no era là assolutamente immobile era volato lontano dove quei colpi e quelle grida non potevano raggiungere il suo orecchio era affondato sotto mari di silenzio e il suo nome che un tempo egli avrebbe riconosciuto tra il muggire ed una tempesta era divenuto un suono vuoto e poco dopo il gioviale signore smise di bussare e se ne andò questo era un chiaro suggerimento ad affrettarsi per quello che restava da fare ad andarsene da quel luogo accusatore a tuffarsi in un bagno di folla londinese e a raggiungere dall'altra parte della giornata quel porto di sicurezza ed apparente innocenza il suo letto era venuto un visitatore in ogni momento poteva essere seguito da un altro che poteva essere più ostinato aver compiuto il delito e non raccoglierne l'utile sarebbe stato fallire in modo troppo odioso il denaro quello era lo scopo di Markheim e mezzo per ottenerlo le chiavi volse il capo a guardare la porta aperta dove l'ombra ancora si indurava e tremava e senza accordersi di una ripugnanza della sua mente ma con un tremore nelle viscere si avvicinò al corpo della sua vittima ogni segno umano se n'era del tutto andato come un vestito a metà gonfio di crusca le membra stavano sparse il tronco ripiegato sul pavimento eppure la cosa lo respingeva per quanto così sbiadito senza importanza per gli occhi temeva potesse avere maggiore significato per il tatto prese il corpo per le spalle e lo voltò sul dorso era stranamente leggero e pieghevole e le membra come fossero lotte cadevano nelle più strane positure il volto era privo d'ogni espressione ma era pallido come la cera e orribilmente macchiato di sangue su una tempia questa fu la cosa che più sfiacque a Markheim lo riportò all'istante a un certo giorno di fiera in un villaggio di pescatori una giornata grigia un vento che fischiava da folla nella strada il clangore degli ottone il rimbombo dei tamburi la voce nasale di un cantante di ballate e un ragazzo che andava su e giù col capo nascosto tra la folla e diviso tra l'interesse e la paura fino a quando nell'entrare dove era più grande la follarsi della gente vede un baraccone e una gran tela con pitture orribilmente disegnate vistosamente colorite Rouging con il suo apprendista e Manning con l'ospite assassinato Ver nella stretta mortale di Turtel e un'altra ventina di delitti famosi la cosa era chiara come un'illusione era di nuovo quel ragazzetto guardava ancora una volta e con lo stesso senso di ripugnanza fisica le volgari pittura era ancora sbalordito dal ribombo dei tamburi una battuta della musica di quel giorno gli tornò in mente e a quella per la prima volta fu su di lui un malore un senso di nausea un'improvviso debolezza delle giunture contro le quali dovette subito resistere e che dovette vincere mi parve più prudente affrontare che fuggire questi pensieri guardò più arditamente il volto del morto e piegò la sua mente a rendersi conto della natura e della grandezza del suo delitto tanto poco tempo prima quel viso si era mosso mutevole a ogni sentimento quella pallida bocca aveva parlato quel corpo era stato un fuoco di obbedienti energie e ora a causa del suo atto quella cosa viva sarà fermata come quando l'orologiaio con un dito arresta il battito dell'orologio così in vano ragionava non riusciva ad accrescere il rimorso della sua coscienza lo stesso cuore che aveva tremato davanti alle scene dipinte di delitto guardava ora la realtà del delitto senza commozione tutt'al più sentiva un barlume di pietà per uno che era stato dotato inutilmente di tutte le facoltà che possono fare del mondo un giardino di incantesimo uno che non era mai vissuto e adesso era morto ma di pentimento no neppure un tremito allora liberandoci da questi pensieri trovò le chiavi e andò verso la porta aperta del negozio fuori si era messo a piovere dirottamente e il rumore dell'acquazzone sul tetto aveva bandito il silenzio come una gocciolante caverna quelle stanze erano piene di un incessante eccheggiare che occupava l'orecchio e suniva al battito degli orologi e mentre Markheim si avvicinava alla porta mi parve di udire in risposta alla cautela del suo passo i passi d'altri piedi e si ritrassero sulla scala l'ombra palpitava ancora molle sulla soglia gettando un immenso peso risoluto sui suoi muscoli spinse la porta la debole nebbiosa luce del giorno illuminò opaca il nudo pavimento e i gradini la lucente armatura ritta con la labarda in mano sul pianerottolo e le nere sculture dei mobili e i quadri incorniciati che pendevano sui gialli pannelli di legno che ricoprivano le pareti tanto forte era il battere della pioggia per tutta la casa che per le orecchie di Markheim cominciò a poter essere distinto in molti suoni diversi passi e sospiri il calpestio d'un reggimento in marcia lontano il tintinio di monete contate e lo sgriglio lì di porte socchiuse furtivamente parevano unirsi al pitettio delle gocce sulla cupola e al violento scorrere dell'acqua nelle grondaie il senso di non essere solo crebbe in lui fino a portarlo alle soglie della pazzia da ogni parte era perseguitato e stretto da qualche presenza le sentì muovere nelle stanze di sopra nel negozio sentì il morto alzarsi in piedi e mentre cominciava con un grande sforzo a salire i gradini passi fuggivano tranquilli davanti a lui e lo seguivano furtivi se fosse stato sordo pensò come sarebbe stato tranquillo padrone della sua anima e poi ancora è in ascolto con sempre nuova attenzione fu lieto di quel suo senso senza riposo che era come un avamposto ed era fedele sentinella della sua vita tirava di continuo la testa sul collo i suoi occhi che parevano uscire dalle orbite scrutavano da ogni parte e da ogni parte erano a metà ricompensati dalla visione di una cosa senza nome che svaniva i ventiquattro scalini che portavano al primo piano furono ventiquattro agonie in quel primo piano le porte erano socchiuse tre come tre imboscate che gli scossero i nervi come bocche di cannone non si sarebbe mai più sentito lo sapeva abbastanza chiuso da mura e fortificato contro gli occhi vigili degli uomini desiderava ad essere a casa sua cinto dalle pareti sepolto sotto le coperte del letto e invisibile a tutti fuorché a dio e a questo pensiero si meravigliò un poco ricordando quello che aveva sentito raccontare da altri assassini e della paura che si diceva avessero dei vendicatori celesti non era così almeno per lui temeva le leggi della natura temeva che nel loro procedere insensibile e immutabile conservassero una testimonianza terribile del suo delitto temeva dieci volte di più con un terrore abietto superstizioso una scissione della continuità dell'esperienza umana un'intenzionale illegalità della natura giocava un gioco d'abilità contando sulle regole calcolando le conseguenze dalle cause e se la natura come il tiranno vinto buttò all'aria la scacchiera avesse rotto la serie del loro succedersi altrettanto era accaduto a Napoleone così dicevano gli scrittori quando l'inverno aveva mutato il tempo del suo apparire lo stesso poteva accadere a Markheim i solidi muri potevano diventare trasparenti e rivelare i suoi atti come quelli delle api in un alveare di vetro le solide assi potevano cedere sotto i suoi piedi come sabbie mobili e trattenerlo nella loro stretta sì e c'erano avvenimenti meno pazzeschi che avrebbero potuto essere la sua rovina se per esempio la casa fosse caduta e lo avesse imprigionato vicino al corpo della sua vittima o se la casa vicina fosse andata a fuoco e i vigili lo avessero circondato da tutte le parti queste cose temeva e in un certo senso queste cose potevano essere chiamate la mano di Dio tesa contro il peccato ma in quanto a Dio stesso era tranquillo l'atto che aveva commesso era senza dubbio eccezionale ma lo erano anche le scuse che aveva e Dio lo sapeva era là e non tra gli uomini che era certo di trovare giustizia quando si trovò al sicuro nel salotto ed ebbe chiusa la porta dietro di sé si accorse di una tregua negli allarmi la stanza era affatto ignuda e senza tappeti per di più e sparsa di casse da imballaggio e di mobili stranamente assortiti parecchie grandi specchiere nelle quali si vide sotto angoli diversi come un attore sulla scena molti quadri con la cornice essenza a terra rivolti verso il muro una bella credenza di Sheraton un mobiletto intarsiato e un gran letto antico con le cortine di Damasco le finestre si aprivano fino a terra ma per buona fortuna la parte bassa delle imposte era chiusa e questo lo nascondeva ai vicini allora Markheim portò una cassa da imballaggio vicino al mobiletto e cominciò a cercare tra le chiavi era a far lungo perché ce n'erano molte ed era fastidioso per di più perché dopo tutto poteva non essere niente nel mobiletto e il tempo volava ma quel dover stare attento alla sua occupazione lo calmò con la coda dell'occhio vedeva la porta e anche ci guardava di tanto in tanto direttamente come un capitano assediato si compiace nel verificare il buono stato delle sue difese ma in verità era in pace la pioggia che cadeva nella stanza suonava naturale e piacevole poco dopo dall'altra parte le note di un piano furono destate alla musica di un salmo e le voci di molti bambini attaccarono l'aria e le parole com'era solenne com'era tranquilla la melodia com'erano fresche le voci giovanili Markheim ascoltò sorridendo mentre sceglieva le chiavi e nella sua mente soffollavano idee e immagini conformi bambini che andavano in chiesa e l'armonia del grande organo bambini nei campi che facevano il bagno nel ruscello che vagavano nella campagna piena di rovi che facevano volare gli aquiloni nel cielo ventoso sul quale navigavano le nubi e poi a un'altra cadenza del salmo di nuovo in chiesa e la sonnolenza delle domeniche estive e l'alta voce del pastore piena di raffinatezze sorriso un po' ricordandola e le tombe giacobite dipinte e le oscure lettere dei dieci comandamenti nel coro mentre stava così seduto a un tempo affacendato e distratto trassalì e balzò in piedi un baleno di ghiaccio un baleno di fuoco un impetuoso correre del sangue sentì passare in sé e poi rimasi irrigidito e percorso da brividi un passo saliva la scala lento e sicuro e poco dopo una mano si posò sul pomo della porta e la serratura scattò e la porta sapersa la paura stringeva Markheim in una morsa che cosa dovesse aspettarsi non sapeva se il morto che camminasse o i ministri ufficiali dell'umana giustizia o un testimone casuale che capitasse là alla cieca per mandarlo al patibolo ma quando un viso passò nell'apertura pede un'occhiata alla stanza lo guardò fece un cenno col capo e sorrise come riconoscendole amichevolmente e poi si ritirò e la porta si chiuse dietro ad esso la sua paura ruppe perduto il controllo in un grido rauco al rumore l'ignoto ritornò ma avete chiamato? domandò allegramente ed entrò nella stanza e chiuse la porta dietro di sé Markheim rimase fermo e lo guardò con tanto d'occhi forse sarà un velo davanti alla sua vista ma le fattezze del luogo venuto parevano mutare e ondeggiare come quelle degli idoli nella luce ondeggiante della candela nel negozio e a volte gli pareva di conoscerlo e a volte gli pareva che gli somigliasse e sempre come un grumo di terrore vivente era nel suo petto la convinzione che questa cosa non era della terra e non era di Dio eppure quella creatura aveva una strana aria comune mentre guardava Markheim con un sorriso e quando soggiunse cercate il denaro mi pare fu col tono della cortesia ad ogni giorno Markheim non rispose dovrei avvertirvi rispose l'altro che la domestica ha lasciato il suo innamorato più presto del solito e che sarà presto qui se mister Markheim sarà trovato in questa casa non occorre gli descriva le conseguenze mi conoscete esclamò l'assassino il visitatore sorrise da gran tempo siete un mio favorito disse e vi ho a lungo osservato e spesso ho cercato di aiutarvi chi siete esclamò Markheim il diavolo quello che posso essere non può avere influenza sul servizio che mi propongo di rendervi certo non può averne esclamò Markheim ne ha essere aiutato da voi no mai non da voi non mi conoscete ancora grazie a Dio non mi conoscete ancora vi conosco rispose il visitatore con una specie di cortese severità o meglio di fermezza vi conosco fino in fondo all'anima mi conoscete esclamò Markheim chi può conoscermi la mia vita non è altro che un travestimento e una calunnia di me stesso ho vissuto per tradire la mia natura così fanno tutti gli uomini tutti gli uomini sono migliori di questo travestimento che cresce loro intorno e li soffoca li vedete tutti quanti trascinati via dalla vita come uno che la vi abbiano preso e avviluppato in un mantello se avessero il controllo di sé se poteste vedere le loro facce sarebbero del tutto diversi risplenderebbero come eroi e come santi io sono peggiore dei più il mio io è più gravato la mia scusa è nota a me stesso e a Dio ma se ne avessi il tempo mi potrei svelare a me chiese il visitatore a voi prima che a tutti rispose l'assassino credevo che foste intelligente credevo poiché esistete che vi sareste mostrato capace di leggere nei cuori eppure vorreste giudicarmi dalle azioni pensateci le mie azioni sono nato e ho vissuto in un paese di giganti i giganti mi hanno trascinato per i polsi prima che io nascessi dal grembo di mia madre i giganti del caso e voi vorreste giudicarmi dalle mie azioni ma non potete guardarmi dentro non potete vedere chi odio il male non potete vedere dentro di me la chiara scritta della coscienza non mai cancellata da ostinati sofismi sebbene troppo spesso dimenticata non potete leggermi come un essere che sicuramente è comune quanto l'umanità un peccatore involontario tutto questo è espresso con molto sentimento fu la risposta ma non mi riguarda queste questioni di coerenza non sono affermio e non mi cura per nulla della costrizione che può avervi trascinato così come potrebbe avervi portato nella giusta direzione ma il tempo vola la domestica si trattiene a guardare i visi nella folla e i cartelloni alle staccionate ma pure continua ad avvicinarsi e ricordate è come se lo stesso patibolo muovesse a gran passi verso di voi per le strade natalizie debbo aiutarvi io che so tutto debbo dirvi dove troverete il denaro a qual prezzo domandò Markheim offro il mio servizio come dono di Natale rispose l'altro Markheim non potete attenersi dal sorridere con una specie d'amaro trionfo no disse non prenderò nulla dalle vostre mani e se morissi di sete e fosse la vostra mano porgere l'acqua alle mie labbra troverei il coraggio di rifiutare posso essere credulo ma non farò nulla per affidarmi al male non faccio obiezioni al pentimento sul letto di morte osservò il visitatore perché non credete nella sua efficacia esclamò Markheim non dico questo rispose l'altro ma guardo queste cose da un diverso punto di vista e quando la vita è terminata il mio interesse cade l'uomo è vissuto per servirmi per spargere nere occhiate fingendo religione o per seminare l'olio nel campo di grano come voi nel cedere per debolezza ai desideri ora che si avvicina tanto alla liberazione non può aggiungere che un atto servile pentirsi morire sorridendo e così far nascere in fiducia e speranza il più timoroso dei seguaci che gli sopravviveranno non sono un così duro padrone provatemi accettate il mio aiuto godetevi la vita come avete fatto sinora godetela più ampiamente allargate i gomiti sulla tavola e quando la notte comincia a cadere le cortine son tirate vi dico per vostro maggior conforto che troverete ancora più facile comporre il vostro dissidio con la coscienza e fare una umile pace con dio vengo proprio adesso da un letto di morte come questo e la stanza era piena di gente che piangeva sincera che ascoltava le ultime parole dell'uomo e quando guardai quel volto che era stato duro come pietra alla misericordia dove di sorridere di speranza e voi allora credete che io sia una creatura come quella domanda Markheim credete che io non abbia aspirazione più generosa che il peccato e il peccato e il peccato per poi alla fine entrare di furto in cielo il mio cuore si ribella a questo pensiero è questa dunque la vostra esperienza degli uomini o è perché mi trovate con le mani rosse di sangue che pensate a tanta viltà ed è questo delitto l'assassinio tanto empio a inaridire le stesse sorgenti del bene per me l'assassinio non è una categoria speciale rispose l'altro tutti i peccati sono assassinio così come ogni vita è guerra io vedo la vostra specie come marinai languenti su di una zattera strappare il tozzo di pane dalle mani dell'affamato e nutrirsi delle vite degli altri io seguo i peccati oltre il momento nel quale sono commessi e trovo che in tutti l'estrema conseguenza è la morte ai miei occhi la fanciulla graziosa che contrasta con la madre con grazia tanto attraente per una questione che riguarda un ballo non gocciola meno visibilmente di sangue umano di un assassino come voi dico che seguo i peccati seguo anche le virtù non differiscono dalla grossezza di un'unghia sono gli uni e le altre falci per l'angelo della morte che mi è te il male per il quale io vivo non consiste nell'azione ma nel carattere l'uomo cattivo mi è caro non l'azione cattiva i cui frutti se li potessimo seguire lontano giù per la rapida cateratta del tempo potrebbero pererci più santi di quelli delle più rare virtù non è perché avete ucciso un mercante ma perché siete Markheim che vi offro di aiutarvi a fuggire vi aprirò il mio cuore rispose Markheim questo delitto al quale mi trovate sarà l'ultimo che io commetterò nel giungere ad esso ho imparato molte cose ed è in sé una lezione una lezione importante finora sono stato indotto benché mi rivoltassi a fare quello che non volevo ero lo schiavo della povertà sua preda anch'essa flagellava vi sono virtù robuste che sanno sopportare queste tentazioni ma la mia non era così fatta ero assetato di piacere ma oggi e da questo misfatto colgo allo stesso tempo un avvertimento e la ricchezza il potere e al tempo stesso la nuova decisione di essere me stesso divengo in tutto libero da agire nel mondo cominciò a vedermi del tutto mutato queste mani fatte per operare il bene questo cuore in pace qualche cosa ritorna in me al passato qualche cosa di quello che sognai nelle sere festive al suono dell'organo in chiesa di quello che progettai nel versare le mie lacrime su nobili libri o nel parlare bimbo innocente con mia madre quella sarà la mia vita ho errato per pochi anni ma ora vedo ancora una volta la città del mio destino speculerete in borsa con questo denaro mi pare osservò il visitatore e se non mi sbaglio ci avete già perduto parecchia migliaia di sterline ah disse Markheim ma questa volta ho una cosa sicura anche questa volta perderete rispose il visitatore tranquillamente ah ma terrò da parte metà del denaro esclamò Markheim perderete anche quella disse l'altro la fronte di Markheim si coperse di sudore ebbene che importa esclamò mettiamo che lo perda mettiamo che ripiombi ancora nella povertà dovrà per questo una parte di me la peggiore continuare a vincere sulla migliore il male e il bene scorrono potenti in me trascinandomi dall'una e dall'altra parte non amo una cosa io amo tutte le cose so pensare a grandi azioni a rinunce a martiri e sebbene io sia caduto in un delitto qual è l'assassinio la pietà non è stranea ai miei pensieri ho pietà dei poveri chi conosce le loro prove meglio di me ho pietà di loro e li aiuto so quello che vale l'amore amo l'onesto riso non c'è cosa buona e fedele sulla terra che non ami con tutto il cuore e debbono soltanto i miei vizi guidare la mia vita e deve la mia virtù rimanere senza effetto come un passivo ingombro della mente no non deve essere così anche il bene è fonte di azioni ma il visitatore alzò un dito per trentasei anni che siete rimasto a questo mondo disse attraverso molti mutamenti di fortuna e varietà d'umori vi ho osservato e vi ho veduto cadere sempre più in basso quindici anni or sono vi avrebbe fatto spavento un furto tre anni fa sareste impallidito sentendo parlare d'assassinio c'è un delitto c'è una crudeltà o una viltà davanti alla quale possiate ancora indietreggiare tra cinque anni vi scoprirò sul fatto sempre più giù sempre più giù dovete andare e soltanto la morte vi potrà fermare è vero disse Markham con voce rauca fino a un certo segno ho accettato il male ma così fan tutti gli stessi santi nel vivere diventano meno difficili e accettano il tono di quello che li circonda vi farò una semplice domanda disse l'altro e dalla vostra risposta trarrò il vostro oroscopo morale siete diventato più immorale in molte cose forse avete fatto bene e a ogni modo è quello che accade a tutti gli uomini ma concesso questo siete in un solo particolare per quanto minuscolo più severo nell'accettare la vostra condotta o agite in tutte le cose con rilassatezza anche maggiore in nessun particolare ripete Markham pensoso e pieno d'angoscia no aggiunse disperato in nessuno sono sceso più in basso in ogni cosa allora disse il visitatore accontentatevi di essere quello che siete perché non cambierete mai e le parole della vostra parte su questa scena sono irrevocabilmente scritte Markham rimase a lungo silenzioso e in vero fu il visitatore a romper primo il silenzio poi che così stanno le cose disse debbo mostrarvi dov'è il denaro e la grazia esclamò Markham non avete provato anche questo rispose l'altro due o tre anni or sono non vi ho veduto sul palco delle adunanze religiose e non era la vostra voce la più forte nel cantare i salmi è vero disse Markham e vedo chiaramente quello che mi rimane da fare quello che è il mio dovere vi ringrazio dal profondo dell'anima mia per questa lezione ho gli occhi aperti ora e mi vedo finalmente come sono in questo momento l'acuto suono del campanello si udì per tutta la casa e il visitatore come se quello fosse un segnale predisposto che avesse aspettato mutò subito contegno la domestica esclamò è ritornata come vi avevo avvertito e ora vi trovate davanti a un altro difficile passo il suo padrone dovete dirle è malato dovete farla entrare con un viso sicuro ma piuttosto serio niente sorrisi niente esagerazioni e vi prometto il successo quando la ragazza sarà entrata la stessa abilità che va liberato del mercante vi solleverà di quest'ultimo pericolo che è sul vostro cammino poi avrete tutta la sera tutta la notte se sarà necessario per saccheggiare i tesori di questa casa e per mettervi in salvo questo che viene a voi con la maschera del pericolo è un aiuto su gridò su amico la vostra vita trema sulla bilancia su e agite marca in guardo fisso il suo consigliere e son condannato ad azioni malvagie disse c'è ancora una porta che s'apre per me verso la liberazione posso astenermi dall'agire se la mia vita è una cosa cattiva la posso abbandonare sebbene io sia come dite giustamente pronto al cenno delle più piccole tentazioni posso ancora con un gesto decisivo mettermi in salvo dove nessuna mi potrà raggiungere il mio amore del bene è destinato ad essere sterile può essere e così sia ma mi rimane ancora il mio odio per il male e da questo con vostro acerbo disappunto vedrete che saprò trarre tanto l'energia che il coraggio il volto del visitatore cominciò a mutare in modo meraviglioso e stupendo si illuminò era dolci di tenero trionfo e mentre si illuminava svaniva e si dileguava ma Markham non si fermò ad osservare e a comprendere la trasformazione aperse la porta e scese assai lentamente pensando tra sé il suo passato gli sfilò lentamente davanti agli occhi lo vide come era brutto e audace come un sogno senza scopo senza un casuale miscuglio di fatti una scena di disfatta la vita come così la rivide non lo tentava più ma dall'altra parte scorgeva un porto di quiete per la sua nave si fermò nel corridoio e guardò nel negozio dove la candela era ancora accesa presso il morto era uno strano silenzio ricordi del mercante sciamarono nella sua mente mentre guardava e di nuovo il campanello ruppe in impaziente clamore andò incontro alla domestica sulla soglia con qualche cosa di simile a un sorriso è meglio che chiamiate la polizia disse ho ucciso il vostro padrone a un sorriso